. Uomini e donne, Marcello Fuentes, dolce, romantico e sensibile con Sofia. . Marcello Fuentes racconta, in un'intervista rilasciata a Vero, in edicola questa settimana, le gioie della paternità, tutte le attenzioni, infatti, negli ultimi tempi, sono rivolte alla piccola Nicole, di quattro anni, nata dall'amore con la showgirl Sofia Bruscoli. . . L'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la sua compagna è abbastanza litigarello ma, dopo cinque anni, non conosce segni di crisi. . L'imprenditore, a discapito della sua ex fama di Latin lover, si rivela un inguaribile romantico, ricco di gesti carini per la propria compagna e mamma della sua primogenita. . .